Perchè le rane jantèi una lenga l'onze? In cui era una rana che si mandava a Maria Carlotta. Questa rana stava ad un ignis, era tutta verda. Aveva una lenga tutta rossa, picchiuda e tacchienta. In un giorno la rana viena a Maria Carlotta. Attenzione picchiuda a Maria Carlotta. Te pecco, io dò la rana. No, io sei ingrasciosa. Te può non picchiare, mi ha raccontato a Maria Carlotta. La rana ha cercato i capelli da Maria Carlotta. Paff! E' una pera che la sinalenga e la t'inculasse. Paff! 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 Paff!